Vi chiediamo di comprendere la difficile situazione nella quale ci troviamo ad operare e vi porgiamo anticipatamente le nostre scuse. Nella lettera inviata a tutte le famiglie dalla preside del VII Circolo Didattico di Piacenza si comprende a pieno la complessità del momento che il mondo della scuola sta attraversando tra nuove regole, quarantene, personale assente e tracciamento da Covid in tilt. La dirigente delle elementari Pezzani a 25 aprile, oltre che delle materne fratelli Grimm e Andersen, ha dunque trasmesso una comunicazione ai genitori in cui evidenzia i cortocircuiti subiti dalla macchina dell'istruzione sulla spinta di Omicron. Il problema relativo alla gestione di questi casi in sinergia con la ASU che a sua volta è chiaramente in difficoltà. In queste ore il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi promette una semplificazione del nuovo sistema normativo che tocca quarantene, lezioni in presenza e didattica a distanza. La scuola attende.